tagliamo le patate la quantità la deciderete voi io sto usando questa attrezione che ho trovato dai cinesi che serve a fare le patate con queste specie di ondine è molto comodo l'ho pagato circa 2 euro e le tagliamo quindi a bastoncini tutte le nostre patate prendiamo una pirofila da da forno e mettiamo dentro le nostre patate lavate ed asciugate aggiungiamo una cipolla bianca mezza se avete usato tre patate e mezza cipolla bianca va più che bene poi se vi piace con un sapore molto più deciso mettete cene di mettete ne di più aggiungiamo olio origano quanto basta e sale quanto basta mescoliamo per fare insaporire il tutto aggiungiamo un bicchiere d'acqua che aiuterà la cottura inforniamo poi un forno ventilato 180 gradi circa un'oretta dipenderà poi dal vostro forno le mie hanno cotto giusto un'ora sono croccanti fuori e morbidi dentro spero che questa facile ricetta vi sia piaciuta continuate a seguirmi sempre più numerosi sul mio canale se volete essere aggiornati sull'uscita di nuovi video vi consiglio di spuntare la campanella che troverete a fianco al mio nome vi ringrazio per i like e vi saluto un bacione da mary cake qui a come a Grazie.